carissimi pace buona giornata dio vi benedica oggi è 20 febbraio leggiamo ancora una volta nella parola del signore in particolare leggiamo nel vangelo di giovanni vi invito ad aprire la bibbia proprio in questo libro e a leggere insieme a me il verso 46 del capitolo 7 dove scritto che le guardie risposero nessuno parlo mai come quest'uomo cos'era successo in pratica i sacerdoti capi dei sacerdoti e farisei avevano inviato queste guardie a prendere il signore per portarlo da loro ma esse tornarono a mani vuote e quando gli venne chiesto il motivo la risposta fu quella che abbiamo letto nessuno parlo mai come quest'uomo perché queste guardie rimasero stupefatte dai discorsi che gesù pronunciò e questo è sicuramente un motivo di spunto di riflessione per la vita di ognuno di noi oggi possiamo ascoltare tanti discorsi tramite i social network ma non solo tramite le televisioni e i tanti mezzi di informazione che ci circondano possiamo ascoltare tanti discorsi tante notizie tante promesse possiamo acquisire tanta conoscenza e la conoscenza è sempre qualcosa di utile soprattutto se essa è veritiere ed è fondata su dei principi scientifici ben precisi possiamo avere notizie su come è composto il corpo dell'uomo su come è strutturato l'universo possiamo avere notizie su quello che accade dall'altra parte del mondo possiamo anche vederlo con i nostri occhi grazie anche allo sviluppo di internet delle tecnologie correlate possiamo collegarci con un qualsiasi canale youtube o similari che ci sono su internet e ascoltare discorsi pronunciati anche da personaggi illustri di cui magari abbiamo grande stima eppure c'è un messaggio un messaggio che è antico sicuramente perché risale a duemila anni fa circa un messaggio che è diverso da tutti quelli che possiamo trovare su internet sui giornali sulle televisioni ovunque voi volete andare anche sui libri sia quelli di narrativa sia agli altri è un messaggio che è quello che è stato dato da cristo gesù è veramente questo messaggio è diverso da tutti perché riesce a raggiungere la profondità del cuore dell'uomo riesce a toccare le corde più sensibili dell'essere interiore di ogni uomo e di ogni donna è un messaggio che è veritiero delle volte un messaggio che ci mette in crisi altre volte un messaggio che ci consola altre volte ancora un messaggio che ci dà speranza è un messaggio che però è diverso da tutti quanti gli altri ed è capace di poter fare quello che nessun altro messaggio può fare vale a dire cambiare il destino eterno di una persona perché quando questo messaggio il messaggio dell'evangelo viene ascoltato accettato e viene assimilato nella propria vita esso porta nuova vita innanzitutto e non solo esso porta la certezza dell'eternità perché ci spinge ad arrendere il nostro essere nelle mani del nostro creatore affinché egli ci lavi ci purifichi e ci conduca lungo la via della santità e della consacrazione della devozione che messaggio speciale che messaggio glorioso che messaggio meraviglioso è il messaggio dell'evangelo e cari noi ancora oggi abbiamo bisogno di quel messaggio sia benedetto il signore per ogni buon libro cristiano che possiamo trovare sia benedetto il signore per ogni lezione sulle varie materie scientifiche e umanistiche che possono essere tenuti da parte di luminari illustri sia benedetto il signore per ogni altra cosa che riguarda la conoscenza di questa terra ma non c'è il messaggio più importante più bello più straordinario del messaggio dell'evangelo e quando noi andiamo al signore per ascoltare il suo messaggio per poter ricevere la sua parola anche noi possiamo e dobbiamo dire nessuno ha mai parlato come quest'uomo quando ci accostiamo ai vangeli e leggiamo la storia di gesù leggiamo dei suoi discorsi non possiamo che dire nessuno ha mai parlato come quest'uomo quando andiamo nella presenza di dio e permettiamo allo spirito santo di riportare nel nostro cuore nella nostra mente le parole del maestro che ci raggiungono in modo propizio delle volte per riprenderci altre volte per incoraggiarci possiamo e dobbiamo dire nessuno ha mai parlato come quest'uomo sì il parlare di gesù un parlare meraviglioso è un parlare dolce un parlare diretto è un parlare che porta speranza un parlare che porta vita è anche un parlare che porta convincimento di peccato di giustizia e di giudizio ma non si ferma lì perché ci ricorda che c'è un dono che è stato dato ad ogni uomo affinché possa essere salvato e questo dono è la croce di cristo e allora fratelli e sorelle cerchiamo di concentrare la nostra mente il nostro cuore sulle parole del maestro per poter dire ancora una volta e anche noi nessuno ha mai parlato come quest'uomo sì cari rendiamo la parola di dio l'oggetto delle nostre meditazioni e riflessioni leggiamo la ogni giorno ascoltiamo la voce del buon pastore e noi non potremo che rimanere ogni giorno meravigliati e stupiti e sentire l'anima nostra dissetata e sfamata perché solo la parola di dio il pane che scende dal cielo è capace di poter soddisfare l'intimità del cuore umano cari continuiamo a cercare il signore nella nostra vita a dargli sempre più spazio nel nostro cuore e non ce ne repentiremo mai ma anzi andremo avanti come dice un nostro vecchio cantico di valore in valore un giorno lì nel cielo incontreremo abbramo isacco giacobbe gli apostoli i profeti e tutti coloro che ci hanno preceduto nella fede ma soprattutto innanzitutto e prima di tutto incontreremo e vedremo il signore il nostro amato salvatore e ancora una volta potremo rendergli la lode l'onore e la gloria per tutta l'eternità che dio ci benedica e ci accompagna e ricordiamoci possiamo ascoltare tante cose possiamo leggere tante cose ma nessuno ha mai parlato come parla il signore